Professor Ferretti, che cosa sono i cyberattacchi e quanti tipi di cyberattacchi esistono? L'attacco cyber è una qualunque azione coordinata alla colpire risorse di calcolo o informazioni, quindi archivi, via rete. In realtà possiamo poi fare due principali categorie, gli attacchi che sono mirati, per cui gli attaccanti scelgono per loro scopi un singolo bersaglio e investono risorse di tempo, di intelligenza e di attenzione per quella macchina vittima, ma più spesso possiamo essere coinvolti in attacchi un po' più automatizzati e ad ampio raggio, dove allora con tecniche più semplici però colpiscono un gran numero di macchine nella rete. In quel caso l'obiettivo può essere di semplicemente schiavizzare altre macchine per attacchi successivi. Esistono delle mappe di provenienza degli attacchi, quali sono i paesi dai quali arrivano il maggior numero di attacchi cyber? Le statistiche sembrano marcare come molto attivi i paesi ad esempio dell'est Europa o di paesi un po' al di fuori della rete, dei paesi sviluppati in occidente. Questo probabilmente è perché sanno che in caso di eventuale indagine è più difficile in quella provenienza essere raggiunti per i rapporti che ci sono giuridici tra i vari paesi, anche perché forse il tipo di economia attiva in questi paesi è con una percentuale un po' più alta di attività criminale. Possiamo fare dei numeri sul numero di attacchi che avvengono ogni giorno nel mondo? Se includiamo quelli automatizzati, qui ad ampio raggio si parla di ogni giorno sicuramente decine di migliaia. Se invece si conteggiano quelli mirati, allora nell'arco di un mese abbiamo statistiche raccolte di una dozzina di attacchi mirati al mese. Senta professore, è l'utente comune che usa il computer, come può accorgersi magari di essere stato hackerato, come si dice, e che cosa può fare per difendersi? Dunque, il segnale che di solito si raccomanda di tenere d'occhio è qualunque comportamento strano del computer è un campanello di allarme, quindi se di colpo diventa lento, di colpo compaiono messaggi di errore, oppure il traffico in uscita dalla propria macchina, si può vedere anche sui modem di casa questa lucetta molto attiva, aumenta, allora l'anomalia segnala che può essere stato installato qualche software di attacco. La difesa è tipicamente essere aggiornati con il software, in modo che non ci siano vulnerabilità, cioè punti di penetrazione noti e che gli attaccanti molto velocemente sanno sfruttare. Quindi aggiornamento e ultimo consiglio, non cliccare cose sospette nella visita dei siti web, perché tutte le promozioni di software miracolosi o ricette miracolose anche esse, sono spesso punto di entrata per software che può prendere il controllo della nostra macchina, in parte o in tutto.